Ma credo che io debba inserirmi in un solco già ben tracciato dal mio predecessore e continuare a sviluppare un lavoro al servizio della comunità, un lavoro che si svilupperà sui temi tipici del lavoro delle prefetture, quindi la sicurezza, la protezione civile e tutti gli altri temi tipici del nostro ambito di competenza, ma che non si limiterà a questo, ma che tenderà ad affrontare tutte le tematiche che la comunità di questa provincia proporrà. Laddove emergeranno le problematiche che possono interessare enti locali, il rapporto tra enti locali ed altri enti o altri soggetti istituzionali, noi saremo lì, laddove ci venga richiesto, a cercare di trovare le soluzioni più confacenti. Il mio lavoro sarà anche quello di interfacciarmi con tutte le realtà vive del mondo produttivo, del mondo del lavoro, quindi le organizzazioni sindacali, tutte le associazioni di categoria produttivo, il mondo della solidarietà, del volontariato, un'attività che io voglio mettere a disposizione a 360 gradi senza alcuno steccato di competenze dietro cui ripararci. La prefettura è a disposizione dell'intera comunità. Ci sono degli asset che caratterizzano questo territorio, la difesa del comparto orafo e poi da qualche anno siamo anche una meta turistica ambita, quindi leggendo questo, come era stato chiesto in conferenza stampa, anche per quello che accade a livello internazionale, forse queste sono due strade che la impegneranno un po' di più. Allora, innanzitutto il comparto orafo è un comparto di prima importanza in Italia, questo è il primo distretto orafo. In Italia è merita tutta l'attenzione per la prevenzione e il contrasto di ogni aggressione criminale. Quindi su questo continueremo a lavorare, ad implementare un lavoro già ottimamente impostato, anche in collaborazione con le strutture centrali del Ministero dell'Interno che hanno già messo a disposizione risorse specifiche per incrementare la sicurezza nel settore orafo. Per quanto riguarda Arezzo come città, come provincia turistica, anche in questo contesto, in questo ambito, lavoreremo perché tutte le principali manifestazioni che verranno anche a breve termine, cito solamente la mostra vasariana, avvengano in un contesto di massima sicurezza tenendo conto di una situazione internazionale molto complessa, non scevra da pericoli e da rischi, e quindi occorrerà predisporre degli accurati servizi di ordine e sicurezza pubblica per prevenire, ecco, qualsiasi minaccia alla fruizione da parte della città e della provincia di un pubblico sempre più ampio di turisti e di appassionati d'arte. Sull'argomento Saracino si è già informato? La giostra, la giostra. Vabbè, la giostra adesso credo che la prossima sarà, avremo tempo, insomma, sarà nell'estate prossima, quindi avremo tempo, insomma, di affrontare, di, insomma, predisporre il necessario. So che ci sono stati degli incidenti in ultima occasione, quindi, insomma, lavoreremo per evitare che queste situazioni incresciose si ripetano.